Buongiorno a tutti, un benvenuto, sono Alberto Comper di Adobe Systems e sarà mia cura accompagnarvi all'interno di questa presentazione degli strumenti di Creative Cloud per il creativo e per il designer. In questa sessione vedremo una serie di strumenti e soprattutto una serie di servizi che Creative Cloud offre ai propri abbonati per semplificare e accelerare i processi creativi. Il primo strumento che voglio presentarvi oggi si chiama Storage Online ed è un servizio di archiviazione nella nuvola, nella cloud, che Creative Cloud offre e che permette quindi al creativo di posizionare e archiviare dei lavori su uno Storage Online in maniera tale che questi siano accessibili ovunque in qualsiasi istante, in qualsiasi momento. Vediamo esattamente come funziona e soprattutto quali sono i suoi benefici. Sappiamo che chi si iscrive a Creative Cloud ha la possibilità di accedere al portale di creative.adobe.com dove può accedere a tutte le proprie risorse che il servizio di suo abbonamento di Adobe offre in quest'ambito. Quello che stiamo vedendo infatti è proprio l'archiviazione di documenti che io in questo momento ho archiviato online. Qual è il primo beneficio che possiamo riscontrare rispetto per esempio ad altri servizi come il ben noto Dropbox? Il fatto è che i file vengono rappresentati esattamente con loro aspetto. Quindi io che sono un designer ed un grafico ho bisogno di vedere i file di Photoshop, di Illustrator, di InDesign esattamente come essi vengono rappresentati. E questo tipo di esperienza di consultazione noi l'abbiamo indipendentemente che abbiamo Illustrator o Photoshop o InDesign installati sulla nostra macchina. Con un semplice clic per esempio guardiamo un'occhiata a questa cartella che contiene tutta una serie di illustrazioni. Benissimo! Vedete che queste illustrazioni sono documenti di Illustrator e come tali vengono essi rappresentati. Facciamo un clic per esempio su questo documento. Bene! Posso visualizzare in maniera ancora più dettagliata ed esaustiva questa illustrazione ma non solo. Diversamente per esempio dai servizi di Dropbox il servizio di Creative Cloud ci permette di avere tutta un'altra serie di informazioni riguardo ai file che per me possono essere molto preziosi. Per esempio la dimensione del file o più la dimensione del documento stesso in termini di formato. La eventuale tabella colore che ho utilizzato per la creazione di questa illustrazione che io posso anche scaricare per utilizzare questi stessi campioni colori per esempio nell'ambito di un'altra illustrazione che deve essere coordinata a questa. Quindi veramente dei grossi benefici. Torniamo indietro. Guardiamo ulteriormente altri documenti come può essere per esempio questo che è un documento di InDesign. Fantastico il fatto che la consultazione di un documento di InDesign all'interno dello storage online di Creative Cloud possa essere fatta sfogliando letteralmente in questo caso la rivista e la pubblicazione fatta con InDesign in maniera tale che io ne possa apprezzare tutte le pagine e lo ripeto questa stessa esperienza noi potremmo averla consultando il nostro archivio online anche fluendo per esempio di uno smartphone o di un tablet perché l'unica necessità è quella di avere un browser collegato a internet. Veramente notevole. Torniamo nuovamente indietro. Apriamo per esempio nuovamente ancora questa cartella di illustrazioni e guardate quanto Creative Cloud vi offre all'interno di questo servizio anche degli strumenti di vero e proprio flusso di lavoro. Ossia immaginiamoci che questo sia un progress nel mio lavoro e io abbia necessità di farlo visualizzare al mio cliente e tutti noi sappiamo quanto sia ostico e difficoltoso condividere documenti che abbiamo realizzato con strumenti specialistici come Illustrator al nostro cliente che ovviamente non è magari un grafico o un designer. Bene, guardate qua abbiamo un pulsante che dice Share quindi condividi. Possiamo selezionarlo e dire di mandare un collegamento al nostro cliente in questo caso semplicemente attraverso questa funzione. Al lato in cui richiamo questa funzione vedete che ho la possibilità da un lato di definire che il mio documento sia privato e quindi non sia un elemento condivisibile oppure di renderlo pubblico e di consentire a mia discrezione anche che chi riceverà questo collegamento possa nell'eventualità scaricare questo file che io vado a condividere. A mia scelta e a mia discrezione. Bene, ora con un minimo di esercizio di fantasia immaginate che il mio cliente si chiami Tommaso Adobe ed è quindi a lui che voglio inviare il progress di mio lavoro per farglielo visionare e chiedergli un parere sulla bontà o meno del lavoro che sto facendo. Quindi scriverò tommaso.adobe at gmail.com. Questo è semplicemente il suo indirizzo internet. E attenzione non mi preoccupo minimamente che il mio cliente sia abbonato a Creative Cloud o abbia addirittura una Adobe ID. L'unica mia preoccupazione è che semplicemente possa leggere la posta e possa navigare in internet. È l'unica prerogativa che gli chiedo. Quindi direi che ho la massima sicurezza che abbia effettivamente questo tipo di requisito. Basta semplicemente cliccare sul pulsante Send Link che è quello che io adesso ho fatto e potete vedere che quindi adesso un collegamento al signor Tommaso Adobe è stato inviato. Bene, vorrei che adesso cercassimo insieme di metterci nei panni del signor Tommaso Adobe che caso vuole invece che utilizzare un computer sofisticato o chissà quanto stia utilizzando semplicemente un tablet. In questo caso un iPad. Benissimo. Vediamo se ho la possibilità di farvi visualizzare, ecco qui, questo immaginiamoci sia proprio l'iPad del signor Tommaso Adobe. Et voilà, eccolo qui. Bene, consulto io Tommaso Adobe la posta elettronica. Quindi vado a selezionare e vado a vedere di fare una verifica. Eccola qua. Esattamente in questo istante è arrivata nella casella postale del signor Tommaso Adobe questo file, questa mail, in cui si notifica il fatto che Alberto Comper, il sottoscritto, ha inviato a Tommaso Adobe questo file. Io cosa devo fare? Semplicemente toccare il link riportato all'interno del corpo della mail e automaticamente, come vedete, ecco che si aprirà il mio browser. Vi visualizzo magari in maniera ancora più chiara ed esaustiva esattamente l'elaborato che io ho mandato al signor Tommaso Adobe, che vi ricorderete essere che cosa? L'automobile, l'accordo, quindi. Quindi, guardate che cosa fantastica. Il mio cliente, quindi, persino utilizzando un tablet, ha la possibilità di visionare il mio progress, il mio lavoro fatto con Illustrator, ha la possibilità di visualizzarlo in maniera ancora più dettagliata. Qualora, come è menzionato qui, il nostro cliente abbia anche, bontà sua, diciamo, un Adobe ID e, diciamo, la cosa naturalmente è più che probabile, oltre che essere gratuita, avrebbe anche la possibilità di aggiungere dei commenti in maniera tale che io possa, il cliente, commentare le cose che, per esempio, van bene o van male di questo documento. E questi commenti sarebbero riportati direttamente all'interno del mio file. Ma la cosa ancora più interessante la state vedendo qua. Vedete che c'è un pulsante che dice azioni. Se io, quindi, col mio dito vado a selezionare azioni, vedete che tra le possibilità che ho a disposizione c'è scarica. Ora, che senso ha per me scaricare un file di Illustrator su un iPad? Direi poco o nessuno. Ma guardate quanto intelligente è questo servizio che mi permette, come vedete, di scaricare, fare il download del documento, e questo perché io l'ho permesso, anche in altri formati in automatico, come il JPEG o il PNG. Se io seleziono, per esempio, PNG e gli dico di scaricare, ecco che, quindi, il documento in formato PNG viene caricato sul mio iPad e posso, per esempio, con la semplice pressione del mio dito, scegliere, per esempio, di salvare queste immagini nella libreria immagini del mio iPad per poterla, che so, visionare in maniera più dettagliata come sto facendo io in questo momento. Vedete che in questo modo è veramente fantastico. È un flusso di lavoro molto immediato, coerente e semplice che mi permette a me di sfruttare il mio storage online non solo per accedere ai miei file in qualsiasi istante, in qualsiasi momento utilizzando qualsiasi dispositivo, ma anche di condividerli con i miei collaboratori, con i miei clienti, al fine proprio di rendere sempre più efficaci questo tipo di flusso di lavoro. Benissimo, torniamo quindi a noi. Siamo quindi ritornati, sono nuovamente quindi Alberto Comper sul mio computer e posso, quindi, andare avanti a lavorare. Come si caricano dei file all'interno della mia cloud? Direi che è la cosa più semplice da descrivere in assoluto perché si realizza semplicemente con un gesto, cioè basta per me prendere un file qualsiasi, prendiamo per esempio questo, come vedete trascinandolo direttamente all'interno della finestra del mio browser che mi mostra i miei file, il file viene immediatamente caricato e conseguentemente correttamente rappresentato all'interno della mia libreria di file che ho archiviato online e che quindi posso poi visionare in tutta la sua bellezza. Vedete che una notifica compare direttamente addirittura da parte proprio dei servizi di Creative Cloud che mi ricorda che questo file è stato caricato molto bene. Ora però l'ultima edizione di Creative Cloud permette di fare questo in maniera ancora più intelligente e ricordatevi che gli abbonati di Creative Cloud per team hanno a disposizione qualcosa come 100 giga di spazio online, quindi veramente una quantità di spazio cospicuo per archiviare documenti. Dicevo poc'anzi che c'è ancora un modo ancora più immediato e ancora più intelligente di postare documenti sulla mia cloud per renderli accessibili anche per esempio da parte mia utilizzando altri computer o altri device. Se noi apriamo il nostro hard disk potete vedere che io ho proprio una cartella chiamata Creative Cloud File che naturalmente Creative Cloud ha creato al lato in cui io mi sono abbonato in cui sono residenti esattamente gli stessi file. Questo cosa significa? Che qualsiasi file che viene registrato all'interno della cloud viene sincronizzato anche all'interno della stessa cartella locale sul mio computer. Quindi i file che ho localmente sul mio computer sono specularmente anche presenti all'interno del mio servizio di cloud, perfettamente sincronizzati. Ne modifico uno qua, sia giornali qua o viceversa. La riprova può essere per esempio che se io prendo questo file e come vedete lo trascino direttamente all'interno della cartella di Creative Cloud ecco che avviene la sincronizzazione. Quindi questo file automaticamente viene inviato anche sul mio servizio di online. Un'iconcina mi sta proprio a indicare che l'upload di questo documento è in atto. E nel momento in cui, come vedete, il documento è stato uploadato ecco che quest'altro anche lui verrà visualizzato correttamente all'interno del mio servizio. Quindi in maniera del tutto automatica con questo tipo di sincronia. Veramente notevole. Ma non soltanto questo. Quando noi andremo diciamo a installare Creative Cloud vi ricordo che avrete a disposizione uno strumento molto utile, molto importante che è rappresentato da questa piccola icona che vedrete comparire nella vostra barra di stato. Questo è il Creative Cloud Desktop Tool. Quindi uno strumento desktop che compare ed è sempre divisibile. Lo possiamo quasi definire la centralina di comando e di controllo di Creative Cloud. Al lato in cui io la seleziono mi si apre una finestra con una serie di informazioni. Per esempio al pannello Home, lo ingrandisco leggermente così lo vediamo ancora meglio, possiamo vedere per esempio tutta una serie di attività che io ho fatto fino adesso con Creative Cloud che vanno per esempio dall'aver caricato dei file piuttosto che aver aggiornato del software, piuttosto che aver ricevuto degli apprezzamenti sui miei lavori in Behance eccetera eccetera eccetera. Quindi una serie di informazioni importanti. Alla voce Apps abbiamo la possibilità di vedere tutte le applicazioni che in questo momento fino ad oggi io ho installato all'interno di Creative Cloud e quelle che posso ancora installare. L'installazione di un software è la cosa più immediata e semplice possibile. Basta per me fare un clic sul pulsante Install, quindi installa ed ecco che le applicazioni vengono installate. Così pure per completezza di informazioni potete vedere per esempio alla voce file il mio spazio occupato e disponibile dei miei file online, le eventuali font che ho installato attraverso i servizi di Typekit sempre comprese all'interno di Creative Cloud e soprattutto anche ancora sempre più importante l'ambiente di controllo delle attività che sto svolgendo su Behance. Behance che mi piace definire come il LinkedIn del creativo e del designer è quel portale attraverso la quale possiamo esporre tutti i nostri lavori che noi realizziamo, dargli grande visibilità nei confronti di altrettanti designer che lì si incontrano a livello mondiale ma soprattutto per dare visibilità ai potenziali nuovi clienti, già che oggi Behance è in assoluto un portale molto utilizzato proprio da parte di aziende anche di grido che cercano designer di talento per le loro campagne e per le loro promozioni. Ok, ora voglio farvi vedere un'altra cosa molto interessante sempre parlando di design. Perché? Perché certamente il fatto di poter disporre di servizi online permette di amplificare la potenza in termini di creatività di noi stessi, quindi in maniera molto più elevata rispetto a quello che avveniva nel passato quando avevamo a che fare solo con applicativi che nascevano e vivevano esclusivamente all'interno del nostro computer. Che cosa intendo dire? Allora, quando io mi abbono a Creative Cloud quindi mi abbono con il mio Adobe ID. Quindi tipicamente l'Adobe ID è un indirizzo di e-mail e il mio indirizzo di e-mail associato a una password. La cosa che sta nascendo in maniera sempre più evidente è la diffusione, lo sapete, di smartphone e tablet. Questi dispositivi hanno, dal mio punto di vista, tre pregi decisamente particolari. Il primo sono oggetti che abbiamo sempre con noi, sono estremamente portatili e questo, diciamo, viene da sé. Ma un altro è la possibilità, per esempio, di essere sempre collegati, quindi sono dispositivi sempre online. Poi sono anche dispositivi molto potenti e nel contempo sono anche attrezzati, diciamo, dispongono di dispositivi di acquisizione, quindi di una fotocamera. Guardate tutte queste cose insieme, congiuntamente ai servizi di Creative Cloud, cosa mi permettono di fare. Allora, quello che io adesso farò sarà quello di mostrarvi il mio iPhone, in questo caso. Nascondiamo pure per il momento questa finestra e attiviamo il nostro, la visualizzazione del mio iPhone sul, esatto, sul mio computer. Eccolo qua. Allora, che cosa voglio fare insieme a voi? Voglio utilizzare un'applicazione che vi invito a scaricarvi gratuitamente dall'app store di iTunes e di Apple. Si chiama Cooler. Questa applicazione, che io adesso vado ad aprire, vi lo evidenzio a questa icona, diciamo, non è, tra virgolette, una novità assoluta in questi termini. Cooler è una tecnologia che credo vi sto sviluppando da diversi anni che permette a me di acquisire, diciamo, e di creare tabelle colori basate su criteri di teoria del colore, come per esempio l'abbinamento tra colori che siano tra i loro complementari, che sono monocromatici o additivi, sottrattivi, eccetera, eccetera, eccetera. Il fatto che questa applicazione l'abbiamo messa a disposizione per un dispositivo come uno smartphone ci apre un ventaglio di nuove possibilità a questa tecnologia. In particolare, vedete che qua sotto c'è un piccolo pulsante che è una macchina fotografica, quello che io esattamente vado a selezionare. Bene, in questo momento, per esempio, sto inquadrando esattamente quello che state vedendo anche voi, il mio computer, oppure vi faccio visionare, per esempio, un po' l'area in cui io sto, in questo momento, realizzando questa ripresa, e in questo caso la nostra sala training. E vedete che man mano che mi sposto, adesso inquadro per esempio il mio iPad, man mano che mi sposto vengono evidenziati questi punti che, avete penso già intuito, rappresentano in realtà i colori dominanti all'interno di questa scena. E dinamicamente ne viene creata, come vedete nella parte superiore, una tabella cromatica. Questo mi permette, per esempio, in qualsiasi istante, anche toccando semplicemente lo schermo, di bloccare e frizzare, quindi congelare la ripresa, per andare, per esempio, a spostare un qualsiasi punto di quelli che lui ha riconosciuto in qualsiasi altro punto della mia scena. Questo perché magari mi interessa capire un colore che non è stato rilevato dalla cooler attraverso questa ripresa, ma che io vedo all'interno di questa scena. E vedete che qua in alto, quindi, è stata dinamicamente creata una tabella cromatica. Quindi, veramente interessante. Immaginate, per esempio, che io debba, che so, creare un'illustrazione, che so, di un fiore, per esempio, posso catturare i colori del fiore reale attraverso cooler e avere quindi già pronto la tabella colori, dei colori da utilizzare per rappresentare proprio questa illustrazione. Io adesso faccio un semplice tap per dire, ok, questo mi interessa, e come vedete cooler ha creato questo nuovo tema. Con un semplice tocco andiamolo a chiamare semplicemente I love creative cloud. Ok. Possiamo, nel caso, quindi, mettere un qualsiasi commento eccetera eccetera. Ok. Salvo, quindi, queste modifiche, scusate l'ora di battitura, poco importa, e abbiamo, quindi, creato che cosa è la nostra tabella cromatica. Ma dove va a finire? Cioè, questi campioni in colore sono dentro il mio iPhone, in questo caso. In realtà, non è mica tanto vero, perché andiamo a vedere, per esempio, nelle preferenze di cooler, e vedete che c'è una voce che dice mio account. Alla voce mio account potete vedere che io mi sono logato, quindi mi sono collegato con il mio account di creative cloud, usando cooler. Che cosa significa questo? Questa è la cosa che è la dimostrazione tangibile della potenza di avere dei servizi online. E cioè il fatto che, quindi, questo campione in colore è stato immediatamente registrato dove? Sul servizio di storage online del mio account di creative cloud. E come lo utilizzo adesso, visto che in questo momento questa tabella cromatica è nella nuvola? Ma, secondo voi, come potrei utilizzarlo? Ma, per esempio, utilizzando Illustrator. Ok? Ora, guardate, nel momento in cui io lancio Illustrator, sappiamo che in Illustrator abbiamo proprio un pannello che dice cooler. Il mio Illustrator, esattamente come qualsiasi altra applicazione che io stavo usando in creative cloud, è associata, quindi, al mio Adobe. E io, semplicemente, facendo un refresh, posso andare a chiedere, per favore, controlla se ci sono delle nuove tabelle colori che ho creato, per esempio, con il mio iPhone. E guardate, proprio in tempo reale, ecco qui la mia tabella colori che ho appena creato, disponibile all'interno di Illustrator. Quindi, significa che io potrei andare a zonzo per la città, per la montagna, per il mare, catturare scene la cui cromia mi attira, mi affascina, mi ispira, e avere immediatamente, quindi, questi colori, nel momento in cui io lancio il mio Illustrator, immediatamente disponibili. Vogliamo fare un'altra prova? Ma ben volentieri. Ritorniamo, per esempio, ad aprire il nostro, ritorniamo, diciamo, sul nostro iPhone. Eccolo qua. Andiamo, per esempio, a catturare, che so, un'altra scena, una qualsiasi. Questa va benissimo. Un nuovo campione colore. Vi faccio vedere proprio la tempestività e l'efficacia con cui possiamo editare, diciamo, e creare nuovi campioni colore. Chiamo questo campione colore pastello, per esempio. Ok. E gli dico di registrare. Buffete. Ritorniamo istantaneamente in Illustrator. Chiediamo di fare un lieve e veloce refresh. E sta da rampete. Eccolo qua. Immediatamente disponibile. Capite che, in questa maniera, i dispositivi mobili, quindi come smartphone e come tablet, diventano, per me, un vero e proprio strumento di lavoro. Non semplicemente un veicolo, per esempio, attraverso il quale diffondere e distribuire i miei progetti di comunicazione. Questo è, senza altro, molto importante. Ma grazie proprio alla potenza di questi dispositivi, alla loro portatilità, alla loro immediatezza con cui sono accessibili, perché sono sempre accesi, sono sempre pronti all'uso e sono sempre connessi, mi permettono di utilizzarli anche come un vero e proprio strumento creativo. A questo proposito, c'è qualche cosa che voglio mostrarvi ancora proprio in quest'ambito. E ripeto, tutto questo non potrebbe esistere senza la presenza di un servizio come Creative Cloud, quindi con servizi online. Ora, lo strumento che vi voglio presentare è uno strumento che possiamo utilizzare con il nostro, con un tablet, in questo caso un iPad, che io adesso vi vado a mostrare. Eccolo qua. Andiamo pure in modalità full screen, così ce la godiamo alla grande. Bene, l'applicativo che adesso vi mostro, anch'esso completamente gratuito, per cui vi basta semplicemente scaricarvelo dall'app store di iTunes e di Apple, si chiama Adobe Ideas. Piccola nota personale, è un programma di cui io personalmente mi sono proprio innamorato. Perché? Perché vi permette di creare dei bozzetti, quindi come fosse la matita, degli schizzi, dei disegni, immediatamente, in maniera estemporanea, utilizzando il vostro tablet preferito, in questo caso, quindi il nostro iPad. Ed è veramente potente, pur nella sua semplicità, veramente tutto quello che serve per fare delle cose anche molto elaborate. Bene, apriamo adesso quindi la cartellina delle mie touch-up preferite, che ovviamente sono prodotti Adobe, e Adobe Ideas è questa iconcina che vedete qua. Lo lanciamo, con un semplice tocco, e in questo caso mi sta già facendo vedere una libreria di disegni che ho già realizzato. Ne voglio fare insieme a voi uno nuovo. Però faccio subito una premessa. Vi presento, diciamo, una ottima amica di Creative Cloud, che si chiama Wacom Creative Stylus. La Wacom Creative Stylus è una penna capacitiva, per capirci, quelle con la punta gommosa che uno schermo capacitivo come quello dell'iPad sente, perché pensa che sia in realtà una delle vostre dita, e in più ha una tecnologia basata su, ovviamente, software e comunicazione Bluetooth, per cui riesce a trasmettere al vostro tablet anche la pressione. E questo vi apre un ventaglio di utilizzi fantastico. E la cosa che è ancora più fantastica è che Adobe Ideas supporta perfettamente questo nuovo dispositivo di Wacom. Allora, facciamo la conoscenza di Adobe Ideas molto semplicemente e molto rapidamente. Allora, innanzitutto, come vedete, è un'interfaccia molto semplice. Abbiamo qui alla sinistra una toolbar con gli strumenti principali che io posso andare a selezionare, come per esempio un pennello, piuttosto che non una matita, piuttosto che non un pennarello, piuttosto che non un pennino o secchiello per riempire aree di colore. Poi abbiamo una matita, la mano per spostare il nostro foglio, due freccioline di andu e ridu, per cui posso andare avanti e indietro all'infinito negli step che realizzo, poi una dimensione dello strumento pittorico che sto utilizzando, la sua opacità, questa è una cosa molto importante, colore, ovviamente qualsiasi tipo di colore possiamo selezionare no problem at all, quindi, e ultimo ma non ultimo, ma questo lo vediamo dopo, una cosa che è in realtà molto simile a quella che vi mette a disposizione Photoshop. Quindi vedete che è uno strumento molto molto semplice. Prendiamo per esempio la matita e selezioniamo un certo spessore, in questo caso serve uno spessore massimo, perché? Perché come vedete, cliccando diciamo nella parte che vedete qua in alto, vedete il fatto che in questo momento Adobe Ideas sente la presenza di questa Creative Stylus, quindi sente la possibilità di gestire la pressione e questo mi apre delle possibilità veramente fantastiche. La prima ve la faccio vedere subito. Vedete che nel momento in cui io comincio a disegnare, il tratto cambia di spessore a seconda della pressione che io esercito sul mio iPad e quindi posso per esempio fare un tratteggio veramente straordinario, vi assicuro che tra l'altro la sensibilità della penna è veramente eccezionale, mi perdonerete diciamo l'approssimazione di quello che io sto disegnando, mentre sto facendo questa spiegazione, ma già secondo me la dice lunga, in maniera tale che io possa letteralmente fare una cosa come questa, ok? Guardate diciamo la morbidezza di questo tratto è veramente incredibile, non mi stancherò mai di rimanere impressionato che cosa è possibile fare in combinata diciamo utilizzando questi strumenti, quindi Adobe Ideas è in questo caso la Creative Stylus di di Wacom, eccetera eccetera. Tra l'altro osservate una cosa veramente eccezionale, io posso ingrandire fino a livello molecolare, come vedete i tratti che ho realizzato non perdono di risoluzione o di qualità, perché? Perché in realtà quello che io sto disegnando, incredibile a dirsi, non sono dei banalissimi pixel, ma sto in realtà disegnando dei vettori e questa cosa qui avrà, come vedremo tra brevissimo, delle implicazioni tutt'altro che banali e indifferenti. Quindi uno strumento davvero diciamo potente e vi assicuro che diciamo vi permette, immaginate se siete in treno, avete voglia di abbozzare un'idea che vi viene in mente, tra che tirate fuori il vostro iPad e con questa penna e Adobe Ideas potete già dare corpo e vita alla vostra idea prima che questa magari svanisca dalla vostra mente in maniera veramente così immediata e veloce. Cancelliamo pure, non stiamo diciamo alla scoperta di tutti gli strumenti che ci mette a disposizione Adobe Ideas perché vi invito voi stessi diciamo a scoprirli. Per esempio uno dei miei strumenti preferiti è questo incredibile strumento del pennino che mi permette di fare un tratto calligrafico che ha veramente un sapore e diciamo un feeling veramente eccezionale. Mi permette di fare cose davvero dal mio avviso stupefacenti con veramente pochi tratti, hanno veramente una morbidezza davvero straordinaria, eccetera, eccetera. Andiamo avanti leggermente ancora un po' nella scoperta di Adobe Ideas perché Adobe Ideas è davvero molto molto potente in realtà nella sua semplicità. Vediamo per esempio questo bozzetto che sto realizzando, lo vediamo dritto così. Ok, allora, come spesso diciamo fa ogni illustratore, io potrei magari prendere appunto uno strumento come, che so, la matita, dagli come vedete anche un fattore di opacità al mio tratto per cui posso, come vedete, far sì che il mio tratto abbia diversi livelli di opacità ma soprattutto già la parola livelli è proprio la chiave di volta. Qui abbiamo, proprio sulla parte inferiore, la possibilità di creare tanti livelli quanti ne vogliamo e ad ogni livello assegnargli l'opacità che vogliamo e anche la profondità e il suo posizionamento rispetto agli altri come vogliamo. Quindi l'illustratore tipicamente che cosa fa, come sto facendo magari io in questo caso, ma voglio, diciamo, fare un abbozzo, diciamo, delle proporzioni del personaggio che voglio disegnare dopodiché, benissimo, creerò un nuovo livello, magari quello sottostante lo faccio leggermente semitrasparente in maniera tale che comincio su quest'altro livello a disegnare meglio i dettagli e le proporzioni. Fatto questo, benissimo, richiamiamo il pannello dei livelli, posso per esempio spegnere il livello in cui avevo fatto la prima bozza e crearne uno nuovo, dove andrò invece a disegnare, diciamo, con maggior dettaglio, proprio tutti gli aspetti della mia illustrazione, fino poi, quindi, a spegnere l'ultimo livello di riferimento per avere qui il mio personaggio fatto e finito. Il fatto di poter creare tanti livelli mi permette, per esempio, di creare anche, che so, un nuovo livello in cui, mettendolo sotto tutti gli altri, mi permette, con la totale, diciamo, libertà possibile, prendiamo per esempio un pennello, di andare a, per esempio, ops, quello che in questo caso è sbagliato, ma non c'è problema, possiamo tornare indietro come ci pare piace, possiamo prendere esatto questo livello, lo mettiamo qui sotto e possiamo spitturare, quindi facciamo magari di dimensioni maggiore il mio disegno per riempirlo di colore senza avere il timore che, come vedete, il colore sia coprente rispetto al fatto che descrive la silhouette del mio disegno, quindi anche colorizzare è veramente una cosa facilissima. Ma la cosa più, tra le altre cose che diciamo che vi accenno, è anche la perfetta integrazione con lo stylus di Wacom, tale per cui io posso, per esempio, anche nascondere tutti i pannelli, il stilo di Wacom ha un pulsante alla cui pressione, come vedete, compaiono già in sovrimpressione i principali strumenti di Ideas, per cui io posso cambiare, per esempio, che so, opacità, piuttosto che, probabilmente, cambiare dimensione del pennello, piuttosto che non cambiarne il colore, senza richiamare il pannello degli strumenti a lato e quindi avere proprio un'area di lavoro veramente molto ergonomica e molto comoda. Ma la cosa più impressionante in realtà è questa, e cioè, nel momento in cui io, come vedete, torno indietro, ecco, questi, tutti i file che io creo con Adobe Ideas, al momento in cui sono abbonato a Creative Cloud, vengono registrati dove? Istantaneamente, all'interno del mio storage online. Che cosa significa quindi? Che, voilà, quindi ritorniamo, per esempio, al nostro storage online, apro, come vedete, la cartella bozzetti, dove io sto andando a registrare tutto quello che faccio con Ideas, e potete vedere che è già stato proprio registrato i documenti che io stavo creando poc'anzi, esattamente con la stessa dinamica. E quindi questi documenti vengono immediatamente aggiornati, esattamente come tutti gli altri file di cui vi parlavo. Ma la cosa ancora più incredibile è questa, e cioè, apriamo per esempio, nella nostra cartella bozzetti, localmente sulla nostra macchina, vedete che i file di Adobe Ideas hanno un loro suffisso, punto Idea. Se apro, per esempio, questo documento, chissà con cosa verrà aperto, visto che non esiste Adobe Ideas per desktop, faccio un doppio clic, ed è Illustrator che lo apre. E come potete vedere, i bozzetti che io creo con Adobe Ideas sono in realtà dei bozzetti creati come fosse fatti con Illustrator. E quindi significa che sono già una incredibile base di partenza, o addirittura già possono essere utilizzati da parte mia, in maniera assolutamente operativa, quindi proprio esattamente come se fossero non solo dei semplici bozzetti, ma utilizzati per fare l'illustrazione finita. Quindi vedete che in questa maniera con Creative Cloud si possono effettivamente fare una serie, diciamo, di processi creativi, partendo per esempio da uno smartphone o da una tablet, per poi andarle a completare, senza colpo ferire, quindi senza nulla fare, direttamente con i vostri strumenti desktop, perché sono all'interno del vostro computer, perché c'è questa interconnessione proprio grazie ai servizi di Creative Cloud. Veramente qualcosa di molto, molto interessante, molto potente. Ok. Allora, vorrei farvi vedere adesso, sempre parlando, diciamo, di design, qualche cosa di nuovo anche relativamente ai applicativi che abbiamo a disposizione all'interno di Creative Cloud per fare operazioni di design. Il primo che mi viene in mente da utilizzare è Illustrator. E anche per quanto riguarda Illustrator ci sono delle cose veramente interessanti da mostrarvi. Vi faccio vedere, per esempio, questa illustrazione, allora, che mi permette di introdurvi una funzionalità di Illustrator che io adoro nella sua ultima edizione. Sappiamo che da tempo Illustrator è in grado di realizzare dei pennelli partendo da un elemento vettoriale che io posso quindi distorcere fino a piegarlo in modo proprio da farlo simulare a come fosse un pennello. In realtà, invece, e lo sto facendo anche vedere in maniera piuttosto evidente, quello che stiamo adesso per utilizzare non è un elemento vettoriale, ma è un elemento pittorico. Illustrator CC è in grado di utilizzare anche oggetti bitmap con i provenienti quindi tipicamente magari da Illustrator o da chiunque altro maneggi questa materia per creare dei pennelli. Vediamo che cosa implica e cosa vuol dire questo. Andiamo nel workspace di painting di Illustrator, prendo questo elemento grafico e banalmente lo trascino nel pannello dei pennelli. Vogliamo trasformare questo in un pennello artistico Artbrush. Vi chiedo scusa se stavo lavorando con il programma in lingua inglese che è stata una mia scelta ben inteso ricordandovi del fatto che tutti i prodotti di Creative Cloud sono disponibili in 27 lingue diverse che voi quindi siete liberi di utilizzare a vostra discrezione e a vostro piacimento. Quindi potete installare Illustrator in lingua francese per poi cambiare successivamente e avere la lingua italiana o quant'altro voi volete. in tutta libertà. Ok. Gli dico quindi che questo è un pennello artistico lasciamo perdere per il momento la pletora di opzioni che questo strumento mi offre lasciamo tutto di default così com'è. Benissimo. Cancelliamo pure adesso la base di partenza e utilizziamo il nostro pennello. Quindi prendiamo naturalmente lo strumento pennello e cominciamo semplicemente a disegnare delle pennellate e potete vedere quello che succede che è veramente eccezionale. Quindi questo elemento grafico viene utilizzato proprio come se fosse un pennello e quindi il fusto con la fronda e la chioma diciamo di questo ramo vengono proprio distorti come se fossero dei veri e propri pennelli cosa che per esempio Photoshop che è il re quindi delle immagini pittoriche non si sogna neanche lontanamente di poter fare perché questi vi ricordo ve lo faccio vedere non in anteprima sono in realtà dei vettori e quindi tali rimangono nel momento in cui io seleziono per esempio questo e gli dico no il fusto deve andare un po' così no deve andare un po' di qua no deve andare in questa direzione posso modificare qualsiasi elemento con la libertà più assoluta però in questo frangente a dirvi il vero c'è una cosa che non mi piace tanto e cioè il fatto che la distorsione avvenga per tutta l'interezza dell'elemento grafico che ho selezionato io vi compreso per esempio come risulta molto evidente anche in questo punto viene distruttore anche le foglie e la chioma la cosa magari potrebbe non piacervi allora guardate l'intelligenza di questo strumento faccio un doppio clic nuovamente sulle opzioni e potete vedere che tra le opzioni abbiamo anche stretch between guides ossia distorci tra le guide selezionando questa opzione ecco che cosa posso fare posso definire l'intervallo dentro il quale il mio pennello viene distorto e al di fuori di questo intervallo invece lui non distorcerà nulla quindi se io prendo questa linea guida e la pongo appena prima dell'inizio della fonda vuol dire che questo intervallo verrà distorto e questo invece no qual è la differenza sostanziale lo vediamo subito ed è abbastanza evidente oserei dire vedete che in questo modo il mio ciuffo di di foglie non viene distorto in relazione alla lunghezza con cui io disegno in realtà invece il fusto e questo mi permette quindi di fare una cosa ben diversa rispetto a quello che facevo prima che è quella che effettivamente volevo cioè di creare una specie di ciospuglio diciamo in questa maniera in maniera decisamente più coerente e più lineare veramente potentissimo questo strumento una cosa che di sicuro troverà una quantità innumerevole di possibilità applicative parlando sempre del mitico illustrator vorrei farvi vedere per esempio questo altro documento che mi permette di introdurvi già a una cosa veramente interessante e cioè una prima esplorazione da parte di Adobe nella possibilità di introdurre delle tecnologie diciamo in un modus operandi touch quindi tattile all'interno di applicativi desktop classici questo perché perché immaginiamoci di utilizzare per esempio Illustrator con una Synthic Companion quindi di Wacom per esempio che è uno schermo che è anche tavoletta grafica e che è anche uno strumento touch che io posso utilizzare direttamente con le mie dita toccando quello che vedo sullo schermo e interagendo con esso oppure un Surface di Microsoft in cui posso far girare Windows 8 su un dispositivo che ha uno schermo touch quindi bene ora osserviamo e ritorniamo magari alla disposizione canonica guardate questo lettering questo lettering non è niente di di speciale tra virgolette potremmo farlo tutti noi è fatto come ho scelto una fonte ho scritto la parola poi cosa ho dovuto fare per disporre le singole lettere in maniera così diversa quindi ingrandite ruotate eccetera eccetera ho dovuto ahimè dico io trasformare il testo in tracciati e poi fare manualmente tutte le operazioni di spostamento ridimensionamento eccetera questa situazione che per carità riesco a raggiungere lo scopo però se il cliente mi dice di usare un lettering diverso io devo rifare tutto da capo una fonte diverso tutto da capo il testo cambia devo rifare tutto da capo e invece adesso possiamo invece fare tutto in un modo completamente nuovo questo come vedete è testo e lo ribadisco invece che Cliff scrivo per esempio Adobe ok è chiaro che è evidente che è un semplice testo però adesso osservate cosa posso fare utilizzando una variante dello strumento testo che andate a selezionare proprio nell'apposito pannellino si chiama Touch Type Tool strumento ritocco testo un semplice click e io posso senza rompere la magia diciamo del testo che deve rimanere tale di poterlo orientare nella maniera che vogliamo semplicemente prendendolo tirandolo spostandolo e manipolandolo con tutta la naturalezza tipica di ridimensionare stirare eccetera eccetera e questo lo posso fare lettera per lettera quindi lettera per lettera io posso fare tutte queste operazioni perché vi dicevo che questo è uno strumento che in parte è uno strumento touch quindi nonostante io in questo momento stia lavorando effettivamente con un computer che non è diciamo dotato di uno strumento di uno schermo tattile il fatto è che appunto se io utilizzassi uno di questi dispositivi potrei fare queste operazioni direttamente con le mie dita quindi toccando le lettere e facendo per esempio il pinch to zoom per ingrandire usando le due dita per ruotare per esempio le mie lettere quindi mi permetterebbe di avere veramente un'esperienza incredibile proprio nel fare questo tipo di operazioni lo ripeto il grande vantaggio di tutto questo è che tutto questo è comunque e resta comunque un testo per cui io lo posso selezionare cambiare fonte eccetera eccetera ah vi già che parliamo di fonte vi dico subito un'altra cosa che di cui non farete più a meno in Illustrator come anche per esempio nello stesso InDesign vedete che un grande tedio che abbiamo sempre avuto è soprattutto se siamo dotati di una mole considerevole di font di tutte le volte andare a consultare per esempio come vedete una libreria di font molto vasta che potreste avere attivata sul vostro computer e quindi per me l'esplorazione e la ricerca di una fonte specifica diventano abbastanza una scocciatura supponiamo che banalmente io nella mia libreria di font stia cercando semplicemente un carattere in grassetto mi basta semplicemente scrivere la parola bold e istantaneamente come vedete ho isolato tutti i font bold all'interno della mia libreria di font ma potrei anche per esempio schiacciare una barra spazio e cominciare a scrivere adobe per esempio e lui istantaneamente mi isola tutte le font che contengono la parola bold e la parola adobe in questo caso concludiamo adobe quindi guardate come in pochi clic ho subito isolato magari delle font che mi interessano voglio per esempio che so vedere tutti i font condensate che posso avere nella mia libreria voilà eccoli qua tutti i condensate tutti i condensate ma anche grassetti eccoli qua tracchi istantaneamente selezionati vedete che qui in questo senso proprio l'esperienza di poter cambiare istantaneamente di cercare istantaneamente la fonte che mi serve è davvero molto molto semplificata e facilitata sono cose che cambiano effettivamente poi anche proprio la vita di tutti i giorni benissimo visto che stiamo guardando parecchie cose legate da un lato al design ma anche all'utilizzo proprio di creative cloud mi piacerebbe farvi vedere anche un altro esempio diciamo di come dispositivi mobili e strumenti desktop vanno veramente ormai a braccetto tra di loro e a questo scopo vi introduco una nuova funzionalità di InDesign che abbiamo introdotto nella versione CC di InDesign InDesign CC lo dico subito diciamo ha introdotto parecchie nuove funzionalità alcune però e le più forse le più evidenti sono tra virgolette un po' sotto il cofano del motore InDesign CC adesso è scritto 64 bit sfrutta tutta la vostra RAM è velocissimo anche gestendo documenti di grosse dimensioni e se volete come faccio io in questo caso esattamente come Photoshop e Illustrator potete dosare la luminosità dell'interfaccia è una cosa molto apprezzabile in particolare in questo modo perché permette di far sì che nel momento in cui io apra un layout così come faccio adesso per esempio andiamo a prendere questo documento triccate ok vedete che il documento si visualizza in maniera molto evidente ai vostri occhi senza essere troppo disturbato dal colore dell'interfaccia che in questo senso è molto meno invasiva del precedente bene guardate adesso che cosa sto per fare vedete qui e secondo me molti di voi l'hanno riconosciuto in questo il famoso QR code cioè un'evoluzione del codice a barra attraverso il quale con dispositivi di acquisizione presenti come sui telefonini possiamo catturare questo codice a barre e acquisirne le informazioni che noi abbiamo relegato al suo interno è uno strumento sempre più diffuso e sempre più utilizzato proprio per permettere di distribuire informazioni in maniera temporanea in maniera molto rapida ed efficace bene lo strumento del QR code esiste adesso in InDesign in maniera nativa senza quindi ricorrere a prodotti di terze parti vediamo come si utilizza è semplicissimo dal menu oggetto gli dico genera un QR code e vedete che lo strumento mi chiede qual è il contenuto da associare a questo QR code può essere per esempio un semplice testo un hyperlink un messaggio di testo un email oppure una business card ma mettiamo per esempio una business card ok il mio nome voglio far sì che chi acquisisca questo questo QR code acquisisca acquisisca anche tutte le le mie informazioni le mie generalità e quindi vada a popolare queste informazioni all'interno della mia rubrica telefonica che ho sul dispositivo che sta acquisendo queste informazioni quindi questa è la mia mail ok lavoro per adobe eccetera 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 non sto diciamo adesso a inserire tutto quanto per semplicemente brevita di cose fatto questo possiamo anche scegliere che colore attribuire al nostro QR code colore che vogliamo naturalmente lasciamo per il momento nero che va benissimo fatto questo un semplice ok eccolo qua che sono già pronto ad inserire il mio QR code esattamente come se fosse una banalissima immagine di cui io posso definire la grandezza che voglio tanto comunque questo QR code è vettoriale per cui ha tutte le caratteristiche di vettorialità tali da poterlo produrre nella dimensione che voglio copiarlo incollarlo per esempio in illustrator esportarlo anche in altri formati per essere utilizzato per esempio che so come png anche all'interno di una pagina web o quant'altro bene fatto questo vediamo l'utilizzo pratico di un QR code quindi vediamo di visualizzare ancora una volta il mio smartphone eccolo qua utilizziamo un qualsiasi strumento di quelli gratuiti ce ne sono normalmente a centinaia che mi permettono di acquisire QR code in questo caso vado a prendermi questo QR scanner ok vado ad attivare la camera e nel momento esatto in cui se tutto funziona così dovrebbe essere vado a inquadrare il mio QR code ecco che questo viene acquisito e sta da trancete istantaneamente vedete come ha già acquisito proprio tutte le mie informazioni per cui posso creare un nuovo contatto e quindi ho acquisito le generalità di Alberto Comper direttamente in questa maniera in maniera veramente super immediata e super facile e super veloce veramente notevole benissimo parlando comunque sempre di design abbandoniamo per il momento il nostro buon InDesign e guardiamo un altro programma che nessuno di voi conosce di sicuro Photoshop anche Photoshop si si ci mette a disposizione una quantità veramente innumerevole di novità per il designer la prima tra le tante diciamo che potrei enunciarvi ci tengo senza altro a farvi vedere questa che per certi versi è un po' diciamo una promessa mantenuta perché stiamo parlando di un qualcosa che è stato diciamo mostrato tempi addietro in occasione di una manifestazione che annualmente viene fatta da Adobe che si chiama Max nell'ambito della quale vengono presentate tecnologie anche in fase di sviluppo e di ricerca non so voi ma io ahimè ho parecchie se non tonnellate di foto a casa che hanno questo problema cioè il problema del micromosso situazione estremamente diffusa quando per esempio dobbiamo scattare e riprendere dei soggetti in condizioni di scarsa l'utilizia ambientale siamo costretti ad aprire parecchio il diaframma o peggio ancora ad avere tempi di esposizione prolungati e se il soggetto è bello fermo nessun problema se si muove leggermente ahimè è probabile che questo problema lo noti e lo catturi quindi abbiamo l'effetto scia dell'effetto mosso bene guardate Photoshop cosa vi mette a disposizione oggi tra i suoi filtri un nuovo filtro che ha la voce di contrasto quindi troverete si chiama riduzione effetto mosso shake reduction allora che cosa fa questo questo strumento è quasi per certi versi un programma nel programma in prima battuta dovete indicare a lui qual è l'area più significativa all'interno del vostro soggetto che presente il disturbo che voi volete eliminare supponiamo che più o meno sia all'interno di quest'area questo perché tra poco lo vedremo abbiamo la possibilità di identificare non solo aree specifiche da prendere in esame che hanno questo disturbo ma anche più aree differenti perché magari abbiamo ripreso un soggetto in cui alcuni particolari del mio soggetto si muovono in un certo modo in una certa area e in un altro in un'altra area quindi dobbiamo trattarli in maniera decisamente differente bene fatto questo supponiamo che quindi questa sia l'area abbiamo la possibilità strappando questo riquadro di anteprime e lo si fa semplicemente cliccando qua di muoverci lungo il nostro soggetto per vedere quale sarà il risultato che otterremo a seconda di questo tipo di analisi quindi guardate già che cosa sta per succedere nel momento in cui io banalmente gli chiedo adesso preview o anteprima ecco che viene realizzato quindi la correzione e il mio il mio soggetto adesso appare decisamente più nitido più contrastato di quanto non lo era precedentemente con un risultato che veramente non ha niente a che vedere con quello che avevamo prima quindi qua è come adesso qua è come era prima stiamo parlando di cose veramente ben diverse certo siamo assolutamente onesti nel dichiararvi che non riuscirà questo filtro a mettere a posto qualsiasi disastro tipo a rimettere a fuoco gli alberi che riprendiamo mentre siamo in treno scattando dal finestrino in movimento però ci permette di risolvere a molte situazioni veramente critiche vi faccio vedere un altro esempio che secondo me è significativo sempre diciamo su questo tema prendiamo questa immagine ecco questa è interessante perché perché presenta questo soggetto ovviamente diversi particolari che sono in movimento ma in maniera diversa per capirci per esempio le palme si muovono in un certo modo l'acqua si muove in un altro modo quindi abbiamo due situazioni diverse dato che quindi le palme hanno purtroppo mosse dal vento acquisito un po' di questo movimento andiamo sempre nel menu filtro scegliamo nuovamente riduzione dell'effetto mosso e potete vedere che se io per esempio scegliessi come area di campionamento il mare che ha quindi un movimento specifico quindi e adesso applicassi la riduzione dell'effetto mosso l'effetto che magari ottengo il risultato che magari ottengo potrebbe non essere gradito in particolare è evidente che c'è l'increspatura del mare sia più evidente ma purtroppo anche nella zona delle palme c'è un effetto di ghosting abbastanza evidente questo perché perché in questo caso non gli sto dando a questo strumento le indicazioni giuste su cui basarsi se io prendo quindi l'area di analisi e l'avvicino per esempio dove ci sono le palme lui utilizzerà questa area per fare il suo lavoro e vedete che il risultato è stupefacente rispetto diciamo a quello precedente e riesco quindi ad ottenere un risultato decisamente più soddisfacente quindi andare a determinare le aree di analisi su cui andare a lavorare può essere effettivamente una cosa che fa la differenza vedete come è la prima e come è dopo tenendo conto del fatto che posso anche aggiungere aree differenti e ulteriori zone differenti su più punti della mia immagine in maniera tale da mettere a posto anche per esempio effetti di movimento che sono orizzontali in certe aree effetti di movimento verticali in altre aree dello stesso soggetto quindi in maniera davvero molto sofisticata bene quello che abbiamo visto quindi è una serie diciamo seppur molto veloce di funzionalità legate ai servizi agli strumenti di Creative Cloud atti alla progettazione grafica spero che questo incontro sia stato interessante da parte mia vi ringrazio molto per la vostra partecipazione rimanete sintonizzati per le prossime sessioni che abbiamo in programma e da parte mia un cordiale saluto arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.